Dalla passione dell'interazione tra varie figure professionali, unite dall'amore per i monumenti bresciani, è nata Speak Up, un'applicazione che fa parlare dieci statue dislocate in centro città e che spiegano la propria storia all'uditore in tre lingue. Frutto di un'attenta ricerca storico-artistica, l'app è scaricabile gratuitamente dagli stores e punta, oltre a conquistare i turisti, a essere utile ai bresciani. L'auspicio è che questo esempio, quello di Speak Up, possa essere preso da esempio da altre città. L'idea nasce da una chiacchiera tra amici, attori e insieme a me, in cosa consiste? Nell'avere sviluppato un'applicazione per smartphone o tablet, grazie alla quale si può sentire parlare una statua. Nel progetto sono coinvolte più statue, sono una decina, avviando un'applicazione che si è scaricata dai store gratuitamente, si può ascoltare una volta in presenza di uno dei dieci monumenti coinvolti, si può raccontare in prima persona la storia, la vita di quel determinato personaggio. Tra l'altro scegliendo tra tre lingue, l'italiano, l'inglese e il dialetto bresciano. Speak Up è sicuramente un'ottima intuizione che mette insieme cultura, creatività, innovazione in un gioco di squadra di persone certamente appassionate e innamorate della nostra città. E diventa l'occasione per raccontare e narrare i nostri monumenti, prima di tutto ai bresciani, che forse non li conoscono abbastanza, e poi certamente anche ai turisti. E lo fa in un modo diverso, perché non utilizza solo le lingue tradizionali, ma sconfina anche verso il dialetto, che comunque è una storia e un linguaggio che ci appartiene, che rappresenta la nostra identità. Innanzitutto è un progetto che merita, l'idea merita, poi vedremo sul campo quanto saprà coinvolgere i bresciani e i turisti. Quindi certamente le statue e i monumenti fino adesso utilizzati sono ancora pochi, la città è molto ricca e quindi certamente dovrà essere in espansione. Ma poi io credo che un progetto di questo livello possa tranquillamente sconfinare dalle mura della città, andare in provincia, ma anche rispetto a Bergamo, Cremona e Mantua, che sono realtà di città d'arte, con le quali noi lavoriamo già in modo molto stretto e collegato, possano diventare anche quelle i luoghi dove sviluppare questo progetto.